Buongiorno, o meglio dovrei dire buonasera, visto che questa è una night routine ed è sera, perlomeno nel video, insomma non so quando guarderete questo video, ma qui è sera, infatti come vedete sto rientrando in casa e prima cosa che cosa faccio? Tolgo subito sia la borsa che il cappotto e poi tolgo anche le scarpe e infilo le ciabatte per stare più comoda Se questo video vi piace e se volete vedere anche la morning routine lasciate un bel pollice in su così saprò che la volete vedere e la filmerò prestissimo Dopo aver infilato le pantoffole mi butto sul letto e guardo il telefono, di solito guardo i vari social, leggo i vostri commenti oppure guardo whatsapp e faccio delle telefonate e dopodiché infilo il pigiama perché quando sono a casa mi piace stare in pigiama, cioè non mi piace stare vestita e quindi insomma ho sempre sul pigiama a meno che io non debba filmare un video e anche in quel caso di solito sono vestita dalla vita in su e dalla vita in giù, ho il pigiama e dopo aver infilato il pigiama anche qui continuo a guardare i vari social di solito pubblico magari una fotografia su Instagram o comunque leggo tutti quanti i commenti e rispondo Dopodiché vado in bagno e io vi consiglio di struccarvi subito una volta rientrati in casa e di non aspettare la sera tardi prima di andare a dormire perché al 99,9% sarete troppo stanche e finirete col non farlo Per struccarmi utilizzo la Coco Fresh di Hello Body che è praticamente una mousse detergente che utilizzo sia la mattina che la sera sia per detergere il viso che anche per struccarlo e dopo aver fatto la doccia applico su tutto il viso e anche sul collo, mi raccomando non dimenticatevi del collo Coco Soft che è questa crema notte sempre di Hello Body Tra l'altro con il codice Vanessa 7 avrete il 30% di sconto su tutti i set sul sito di Hello Body e ve lo lascio anche nell'info box e ci tengo a dirvi che non è uno di quei codici sconto da cui io guadagno una percentuale non ci guadagno assolutamente nulla, lo dico semplicemente per voi così insomma se volete acquistare qualcosa avrete lo sconto poi la sera mi piace preparare un bel tè caldo oppure una tisana da bere davanti alla tv guardando un film oppure una putata di un telefilm o davanti al computer quando devo editare e a volte finisco di editare tipo alle 2 di notte come avverrà stasera non questa sera nel video ma stasera nel senso adesso in questo momento mentre lo sto editando e poi applico anche lo smalto e questo ovviamente non è una cosa che faccio tutte le sere oppure tutti i giorni è lo smalto che sto applicando il numero 002 Pink Tie di Carlin che secondo me è un colore veramente veramente stupendo e qui come vedete applico lo smalto mentre bevo il tè e guardo un telefilm e tra l'altro qui ho bisogno di voi, consigliatemi, lasciatemi qui sotto nei commenti titoli di film e telefilm che vi piacciono prima di andare a dormire poi applico anche un balsamo idratante sulle labbra per idratarle perché tendono a seccarsi molto facilmente soprattutto in inverno poi vado a dormire, buonanotte, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio, ciao! Ciao!